ben ritrovati con l'appuntamento meteo non faremo in tempo ad uscire dalla fase di maltempo ancora in atto che subito se ne attiverà un'altra pilotata ancora d'aria fredda artica che si tufferà di nuovo in mediterraneo ma questa volta il minimo depressionario che si formerà domani si spingerà molto più a sud concentrando il maltempo parzialmente al nord e di modo molto intenso al centro sud soprattutto sabato in abruzzo tempo incerto e a tratti perturbato questa sera ma domani mattina ci sarà una breve pausa prima del peggioramento in arrivo a partire dalla sera forte maltempo invece previsto per sabato la ventilazione di debolo al più moderata intensità da ponente ed il mare con motondoso in diminuzione le temperature rimarranno stazionarie con le minime comprese tra meno 1 e 7 gradi e le massime di domani tra 4 e 11 gradi una buona serata a tutti voi